Il tema è tirare un po' le conclusioni, è impossibile perché la materia è stata tanta e importante, però volevamo che ciascuno dei giornalisti e poi il presidente Fote dicessero due battute conclusive rappresentando la loro impressione rispetto a questo evento e se c'è un piccolo insegnamento per il futuro. Quindi possiamo iniziare da Persichilli. Buongiorno a tutti, dalla discussione emersa a mio avviso con i miei ospiti internazionali un messaggio di ottimismo, c'è molto da fare soprattutto per i paesi della zona mediterranea per affinità politica, geografica, della complementarietà in alcuni settori economici sono emerse alcune preoccupazioni, due in particolare. Una è la burocrazia che rallenta di molto e l'altra è il rapporto con l'Europa che è perlomeno non ben definito e quindi ostacola dei rapporti che potrebbero essere bilaterali che poi si allargono a tutta l'area e quindi diventano convoluti e complicati. Quindi messaggio di speranza ma con qualche preoccupazione. A seguire Roberto Napoletano. Ma intanto voglio dire che secondo me si è fatto un lavoro molto importante di segnalazione, di approfondimento e di analisi, vorrei però dire due cose proprio velocissime, mi è venuto in mente proprio ascoltando. Quando avevo 17 anni e facevo il cronista a Napoli mi occupavo di Bagnoli Futura, ne ho 58 e aspettano Bagnoli Futura. Quindi io credo che se non ci vogliamo prendere in giro, ma perché è veramente proprio inutile, e se veramente il mezzogiorno deve essere la priorità economica del Paese, bisogna avere il coraggio di ridiscutere l'assetto di questo Paese. Se la sanità deve tornare ad essere la sanità, va abolito il servizio sanitario regionale. Un Paese non può avere 20 staterelli e 20 servizi sanitari. Va fatto il servizio sanitario nazionale unico, primo. Secondo, la ricerca. Ma lì proprio è assurdo continuare a concepire una competitività dell'Italia legata al finanziamento della singola ricerca, del singolo comune, della singola università. Ma bisogna usare criteri internazionali, bisogna scegliere i migliori. La Spagna lo ha fatto, non è impossibile. Quando ci domandiamo perché... Draghi ha dato il quantitative easing, ha dato questa massa monetaria, è un ammortizzatore sociale per invitarci a cambiare. La Spagna lo ha fatto. Non voglio citare esperienze di persone che conosco benissimo perché sono legate a me da rapporti anche, diciamo, familiari. Ma ricercatori che hanno ruoli di responsabilità in una università della Catalogna. Ha avuto offerte strepitose per donare in Italia con la legge, con Renzi. Non è venuto. Per una semplice ragione. Che lui, pur essendo italiano ed essendo in un'università della Catalogna, vince il primo premio per la ricerca nazionale da tre anni consecutivi in Spagna. E può assumere 40 ricercatori. Chi fa ricerca vuole questo. E nessuno deve più dubitare che se hai scelto quella ricerca è perché è amico di qualcuno. Quindi, primo, operazione verità. Chi ha, diciamo, bisogna smetterla di avere complessi inferiorità. È in atto una rapina sistemica. Ci sono 60 miliardi l'anno che da dieci anni in qua vengono sottratte alle regioni meridionali e vengono regalati per fare assistenzialismo alle regioni settentrionali. Il risultato di questa operazione è che il nord si è meridionalizzato. Abbiamo perso tutti i primati della grande industria privata. Abbiamo una ricerca, un'industria di qualità, ma il paese complessivamente si è indebolito. Quindi, adesso annunciano che vogliono fare i cantieri, vedremo qual è la cartina dei cantieri. Io so che ogni 20 minuti c'è un treno a alta velocità a Milano-Torino. E a Napoli ci fermiamo al binario unico. Quindi, se non si ha la forza politica di imporre questo cambiamento e di ridiscutere tutti gli investimenti e se parallelamente non si ha la forza di dire che è inutile chiedere a chi non lo sa fare di fare quelle cose prendiamo poteri speciali, diamo alle persone protette dalle norme e da una scelta di governo la capacità di fare le cose e di cambiare i territori. E a quel punto ci sarà una risposta da parte delle comunità locali e ci sarà la risposta solo di chi è capace di farlo. Grazie. Giovanna Casadio. Allora, mi faccio una domanda e mi do una risposta. Che cosa ho appreso io da questo convegno? Allora, io ho preso delle cose che mi sembrano importanti e perlomeno io trovo abbastanza essenziali. Intanto che il fatto che il Sud viva sulle spalle dell'Italia e del che produce titolo di un libro è davvero falso. Che senza il Sud l'Italia sarebbe più ricca ma questa veramente è un'ovvietà statistica come si dice e che senza il Sud l'Italia non sarebbe l'Italia e questa è un'ovvietà storica. Quindi sulla grandezza anche di questo meridione a cui noi, almeno io ad esempio, appartengo non avrei dubbio, però appatto che, come qui d'altra parte sia Caffiero De Rao che Gratteri ci hanno mostrato si abbia il coraggio di guardare, il coraggio, la forza anche di guardare quanto è infiltrata di attività malamitose questo Sud che poi le esporta anche al Nord noi siamo veramente una nazione che su questo deve fare chiarezza e deve cambiare e non deve cedere e non deve transigere e stando attenti davvero a non sottovalutare a non, come dire, anche giustificare come troppo spesso facciamo noi stessi, tutti noi stessi. Allora, dall'altra parte Fabrizio puoi iniziare tu così facciamo l'altro oggi. Grazie. Innanzitutto il contenuto a tutti i livelli di queste tre giorni è stato fantastico. Io mi limito soltanto a dire delle piccole cose quasi ovvietà. Il Sud è il motore della ricrescita italiana non ci può essere crescita senza il recupero del Sud l'Italia a due velocità non va bene deve essere una e andare veloce questi sono i titoli delle interviste, dei servizi che noi mandiamo in onda tutte le sere ai nostri telegiornali dei vari presidenti del Consiglio che si sono succeduti in questi anni e delle varie forze politiche che sono succedute al Governo quindi che cosa significa? Significa che tutti quanti siamo d'accordo che non può continuare ad ammantare il gap tra un Nord e il Sud che il Sud deve cominciare a crescere che il Sud deve iniziare a correre e correre forte quindi la domanda è un po' un controsenso siamo tutti d'accordo e non ha quindi un colore politico questa cosa tutti d'accordo nella crescita però poi alla fine manca l'aspetto realizzativo manca il finalizzatore manca il goleador che fa gole il centro avanti che poi va a realizzare queste cose siamo tutti d'accordo penso che questo non dovrebbe avere assolutamente una linea di colore politico la lotta alla criminalità organizzata e il maggior carico di investimenti per il Sud la sanità, il problema della sanità la scolarizzazione, l'istruzione l'avanguardia tecnologica siamo tutti d'accordo su questo quello che occorre fare però è fare fare, non parlare basta l'ultima e poi mi taccio siamo nel mese di ottobre quindi appena si sta chiudendo la stagione estiva qui in Sicilia una realtà che conosco molto bene non c'è un benché minimo di programmazione turistica alberghiera che come sappiamo è il nostro petrolio soprattutto al Sud non c'è una tariffazione non c'è un'idea non c'è uno sviluppo c'è soltanto un gruppo di persone che sono trovate sedute in un paese meraviglioso nelle isole meravigliose che chiaramente hanno questa fortuna e vanno avanti vanno avanti quelle due, tre, quattro settimane di agosto e poi chiudono e riparlano l'anno prossimo invece no ci vogliono i professionisti del turismo ci vuole il professionismo di questa economia per il rilancio effettivo quindi secondo me chiudo serve solo una cosa fare e basta Paolo Mieli ma io ho assistito e partecipato a questo convegno fin dal primo dibattito e desidero ringraziare il presidente vicepresidente della Magna Grecia perché sono rimasto stupito a della compattezza del pubblico b della qualità e della differenza degli interventi che hanno spaziato su tutte mi capita raramente di assistere a convegni così ben organizzati e permettetemi di ringraziare e chiamare un applauso anche per gli organizzatori materiali Paolo Alessandro che hanno prodotto un evento fin dall'inizio a livello Stoccolma visto che io ho citato Stoccolma all'inizio nel mio primo intervento venerdì cosa mi viene in mente le idee messe sul campo sono state moltissime e tutte precise quella cosa che mi ha colpito che non erano esortazioni fino adesso alle cose che ho sentito dette da voi in questo giro di opinioni e mi è venuto in mente ah che bisogna continuare con convegni come questi so che è una faticaccia portarli se è possibile in tutte le regioni del mezzogiorno cioè estendere ovviamente la Calabria la Campania la Puglia insomma fare fare opera di proselitismo e puntare sulle idee cioè fare circolare fare circolare queste idee e arrivare in fretta eh dico fare un lavoro un lavoro non è inutile ecco non è inutile questo lavoro di circolazione delle idee e poi arrivare mi veniva in mente ascoltando adesso Roberto Napoletano arrivare a delle definizioni a fare una specie di carta della Magna Grecia dei punti specifici di cose che si possono fare su cui eh si può raggiungere un compromesso eh della politica e che si possono fare e verificare se si sono fatte nel giro di un anno è un lavorone questo io non so neanche se avete le spalle per affrontare una eh impresa di questo tipo però sicuramente questo eh convegno è un modello io spero che altri ne organizzino eh di questo stesso genere con una caratteristica che avete avuto e che non hanno di solito queste iniziative che è un convegno dove si mescono le esperienze internazionali a esperienze nazionali secondo me io ho deciso in questi giorni di non partecipare mai più a convegni dove sono solo italiani e eh dove non ci sono e dove non ci sono una rappresentanza adeguata di donne ma non per fare un omaggio al femminismo ma perché eh quando mi capita di ascoltare delle donne mi si accende una luce in più soprattutto perché vedo donne competenti nella politica nelle scienze in tutti i sensi e quindi questa caratteristica di questo convegno di questi tre giorni a Mondello eh se riuscite portatela rapidamente in giro per tutta l'Italia meridionale perché rappresenta un punto di integrazione poi se i posti sono meravigliosi lo dico rispetto alle cose che tu hai appena detto sul turismo effettivamente eh si potrebbe fare molto di più però i convegni come questi fanno qualcosa stamattina ho visto in acqua Lucisano e Mimmo Calopresti che facevano il bagno tranquilli e beati mi hanno detto riassumici tu poi le cose che avete detto e questa è la dimostrazione più plastica del successo di questa iniziativa Mimmo Calopresti è giovane relativamente ma eh Lucisano c'ha 92 anni e nuotava come un delfino e in sua assenza propongo appunto volevo proporvi un applauso a lui grazie Giuseppina Paterniti sì diciamo anche io mi unisco un po' ai ringraziamenti agli organizzatori che hanno eh messo su diciamo un'iniziativa così interessante e anche così internazionale molto eh stretta sulle competenze e stretta anche sulla capacità insomma di esprimere anche qui al sud idee e progetti ecco come si diceva prima adesso la logica è del passare dal ragionamento al fare e questo da sempre è stato il punto debole di tutte le regioni del sud a parte delle rare eccellenze su questo quindi bisogna un po' riflettere farsi un esame di coscienza serio e cominciare a rendere le idee progetti un primo passaggio secondo me obbligato è quello di tornare a mettere in circolo eh a interrogarsi sul perché non riusciamo a spendere quei tanti soldi europei che ci sono quelli dei fondi europei e su come al di là della nostra mentalità che rifugie come gente del sud lo so perché è anche una delle mie caratteristiche mi piacciono di più le intuizioni che non i progetti pensati che costano molta fatica credo che sia molto utile mettersi lì e come dire investire su progetti competenze che sono messe insieme che attirino anche i capitali dall'estero questo è fondamentale se vogliamo parlare di cultura di rilancio del sud se vogliamo rimettere in moto questa macchina che torni a farci diventare dopo secoli centrale con un'attenzione molto aperta un'attenzione che è coerente con la nostra storia e la nostra cultura che è quella di guardare al sud del Mediterraneo non dobbiamo mai dimenticare che siamo l'avamposto dell'Europa del Mediterraneo con tutto quello che significa anche sul piano degli investimenti diciamo a volte quando ero a Bruxelles mi veniva da ridere perché vedevo che c'erano tutte le aziende tedesche che investivano moltissimo in Nord Africa in Africa soprattutto sull'economia circolare innovativa sul fotovoltaico su tutto questo e portava queste aziende quindi non solo a fare capitale ma anche diciamo a diventare leader di settore in settori strategici vediamo che la Cina per esempio è un'altra di quelle che ormai in Africa ha fatto moltissimo e noi siamo assolutamente immobili perché lasciamo a volte anche soli quei pochi imprenditori che ci sono quindi l'idea è da qui nasce una con il percorso che indicava prima Paolo Mieli e cioè nasce la possibilità di un percorso sta a noi superare la nostra atavica mentalità di di ostilità nei confronti della progettazione del fare rete e cominciare a fare rete superando il fortissimo individualismo che ci caratterizza perché al sud siamo così insomma la differenza è proprio questa bel mare bel sole tutto bello ma non siamo in grado di fare rete quindi se questi poli di eccellenza che ci sono riuscissero tra di loro quantomeno a dare in maniera significativa una svolta su questo sarebbe estremamente interessante perché avrebbe il supporto anche scientifico che in qualche modo voi avete creato costruendo un momento di riflessione davvero in rete grazie noi scusa un attimo perché mi tocca mi tocca dire che ieri sera abbiamo comunque già iniziato a fare un percorso che siamo molto orgoglioti di tutto di voi di ciascuno di voi ma che ringraziamo soprattutto la squadra perché nel momento in cui ci si trova a lavorare bene con lo stesso sentimento con lo stesso obiettivo si fa qualcosa di veramente grande quindi ovviamente il presidente Foti è quello che ha fatto tutto ma senza Lorenza De Carolis e senza Giovanni Nobile Lorenza De Carolis e Giovanni Nobile due pilastri della fondazione di applaudire perché senza di loro tutto questo non sarebbe potuto avvenire grazie facciamo seguire un casalerio così te lo trovi la sopra e poi concludi avrei dovuto farlo io alla fine grazie così spendo un minuto di più intanto ringrazio per le valutazioni positive che ci fanno riflettere ma approfitto dell'occasione per rivelarvi il perché abbiamo organizzato questo ne parlavamo prima con Saverio Romano noi abbiamo assistito noi intendo Roberto Napolitano Paolo Mieri da 30-40 anni migliaia di convegni sul mezzogiorno e se non ci fermassimo agli anni 70 troveremmo degli iscritti che parlano di 30 anni prima raccontando le stesse cose che succede quindi potremmo prendere le stesse comunicazioni e portarle a un convegno domani a Roma lunedì e nessuno si accorgerebbe di niente e quindi abbiamo pensato di cambiare metodo questo metodo che Paolo Mieri ci ha apprezzato dell'internazionalità nasceva proprio dal fatto che prima di fare venire tutti questi signori qui siamo andati noi a spiegare di cosa si trattava dalla Cina agli Stati Uniti per molto tempo la fondazione ha avuto anche esperienze in giro per il mondo infatti il premio internazionale Magna Grecia è la prima volta che si dà in Italia abbiamo andato sempre all'estero per evitare di confonderci con le miriade di premi che è vero che come dice Spallanzani l'importante è avere il premio non partecipare però in Italia sarebbe stato un proliferare di questo quindi ieri è già stato un metodo diverso e l'altro l'interdisciplinarità nel senso di parlare di cultura con persone competenti che hanno lasciato la professione di giornalista per fare come Scuderi l'imprenditore in questo settore parlare quindi di turismo parlare di legalità di giustizia con esperienza anche di tipo internazionale con i nostri amici giudici americani parlare di occupazione di lavoro o di piccola e micro impresa con esperienza ieri Spallanzani ricordava un piccolo aspetto che il 90% 94% è sotto i 15% 99% circa sotto i 10% cioè tutto il sistema produttivo italiano è fatto da imprese vanno da 0 a 15 e il 94% da 0 a 9 mentre il sistema legislativo che noi abbiamo avuto quindi legislativo e burocratico è come se avessero lottato contro questo sistema un'intelligenza contro un'altra intelligenza ha vinto quella burocratica perché noi abbiamo fatto delle leggi che non sono fruibili per le piccole imprese immaginate tutte quelle che riguardavano sicurezza del lavoro ambiente rifiuti e altro per cui le abbiamo ammazzate e centinaia di migliaia nel tempo sono state chiusi quindi tutto questo interdisciplinare ha dato a noi l'impulso perché questo possa essere un buon inizio e la frase il futuro è oggi è anche legata al fatto e questo ce ne dispiace che ancora una volta abbiamo un governo che indipendentemente da destra, sinistra centro-destra centro-sinistra c'ha un ministro del mezzogiorno che non servirà a nulla perché non c'ha una delega non c'ha portafoglia ammesso che ce l'ha avesse non ha il collegamento col cipe e quindi è un'inutilità che si aggiunge ciò nonostante noi pensiamo come diceva un filosofo molto famoso di qualche secolo fa nulla è più esplosivo di un'idea matura oggi è maturo dicevamo Roberto stanotte fare sistema su questa iniziativa Paolo Mieri ci ha incitato a fare questo noi la raccogliamo e promettiamo che dalla prossima edizione faremo il tour in posti meravigliosi come questo nelle altre regioni della Magna Grecia Allora Savero Romano No no No? Se volete continuare c'è Savero Romano Savero Romano Savero Romano Ok Senza sedia No senza sedia per ringraziare nuovamente tutti voi l'ho fatto ieri sera e per ringraziare questa volta gli ospiti che ci hanno seguito per tre lunghi giorni vi posso assicurare le persone che abbiamo avuto presenti in queste tre giorni sono delle persone che solitamente non frequentano i convegni li ritengono inutili li ritengono una perdita di tempo se sono venuti e non perché li abbiamo invitati ma perché hanno ritenuto la nostra proposta fatta dalle vostre presenze dalle vostre competenze adeguata a ciò che può essere per loro un convegno dove si impara qualcosa ecco quello che voglio dire è che dopo questi tre giorni tutti noi relatori e ospiti abbiamo imparato qualcosa grazie grazie si continua con Fibrex si continua con Fibrex rompiamo le righe giusto? benissimo grazie a tutti grazie a tutti e il futuro è appena iniziato quindi grazie a tutti grazie a tutti grazie a Paola grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti